Comunque una buona notizia c'è, calano i disoccupati. Eurostat stima che 14.916.000 persone, uomini e donne nell'Unione Europea giugno 2021 erano disoccupate, ma il tasto di disoccupazione destagionalizzato dell'area euro è in calo 7,7% rispetto all'8% del maggio 2021 e del giugno 2020. Cala anche il tasto di disoccupazione generale 7,1% rispetto al 7,3% del maggio 2021 e del giugno 2020. Il tasto di disoccupazione giovanile è del 17% nell'Unione Europea, che si traduce in 2.967.000 giovani sotto i 25 anni senza lavoro, ma la situazione varia da paese a paese. Le nazioni con il più alto tasso di disoccupazione sono la Spagna, 37,1%, la Grecia e l'Italia, i paesi più virtuosi, soprattutto la Repubblica Ceca, 7,1%, ma anche Germania e Paesi Bassi. Una bella differenza. Purtroppo, come visto dalla grafica, l'Italia occupa la poco invidiabile terza posizione tra i paesi dell'Unione Europea, situazione peggiore solo in Spagna e in Grecia. Un lato positivo c'è comunque anche stavolta, il tasso di disoccupazione torna dopo 5 mesi sotto la soglia del 10%.